partiti lungo la corda Dancer in the Dark con decisione al comando davanti a Moto Perpetuo e Scrum Master poi segue per linee interne Fantasmina con all'esterno Thunder Flash quindi Always Heed ancora Doctor Strange con in coda King Lassen Cavalli ora all'imbocco della curva con Moto Perpetuo che rompe gli indugi e attacca a fondo Dancer in the Dark per passare lungo la curva in vantaggio in terza posizione segue Scrum Master davanti a Always Heed, Doctor Strange Fantasmina, Thunder Flash Alderamine e King Lassen siamo in retta di arrivo Moto Perpetuo sta allungando nei confronti di Doctor Strange di Dancer in the Dark che si propone al suo inseguimento poi Always Heed in anticipo su Scrum Master a centropista Doctor Strange tricca il varco anche Fantasmina che lo trova a centropista sta passando di nuovo Dancer in the Dark nei confronti di Always Heed Fantasmina e Thunder Flash nel tratto finale Dancer in the Dark in vantaggio nei confronti di Always Heed e Fantasmina sul palo Dancer in the Dark che si impone su Always Heed e Fantasmina al quarto posto Thunder Flash andiamo a rivedere le immagini con la bella affermazione di Manuel Porquiz dal numero 9 dello schieramento Dance in the Dark al secondo posto l'uno di Always Heed al terzo il 6 di Fantasmina 9-1-6 il probabile ufficioso arrivo della quinta di Napoli di Napoli